23 giugno 1994. Dopo aver abolito le leggi sull'Apartheid, la Repubblica Sudafricana viene riammessa all'Assemblea delle Nazioni Unite. L'Apartheid era stato dichiarato crimine internazionale dalle Nazioni Unite, con una risoluzione votata dall'Assemblea Generale nel 1973 ed entrata in vigore nel 1976. L'Apartheid è stato recentemente inserito nella lista dei crimini contro l'umanità che la Corte Penale Internazionale dell'AIA può perseguire.